Il Vescovo Mogavero torna ad attaccare Matteo Salvini e dice le sue testuali parole «E' ora di finirla, non possiamo più stare zitti di fronte alle sparate di un sempre più arrogante Ministro della Repubblica». Queste sono le parole di Monsignor Domenico Mogavero. Dopo che il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, aveva esibito il Rosario durante il suo comizio di Milano dicendo «Se la Madonna ci aiuta, vinciamo le elezioni». E poi continua «Non possiamo più permettere che ci sia propri dei segni sacri della nostra fede per smerciare le proprie vedute disumane, antistoriche e diametralmente opposte al messaggio evangelico». E poi finisce dicendo «Chi è con lui non può dirsi cristiano perché ha rinnegato il comandamento dell'amore». Quindi tutti gli elettori della Lega, secondo il Monsignore, dal 30 al 37% degli italiani, secondo diversi sondaggi, secondo questo Monsignore non si può definire cristiano perché ha rinnegato il comandamento dell'amore.